Ciao a tutti e bentornati su Film is Now in un altro dei nostri video d'approfondimento. Ehi ma vi stanno piacendo questi video? Io mi diverto un sacco a farli. Ed oggi siamo qui per parlare di uno dei personaggi più misteriosi di una delle saghe più amate dell'intera cinematografia e non solo, che andiamo ad esplorare soprattutto per ciò che riguarda la sua timeline piuttosto contorta e complicata. Mi riferisco a Boba Fett, che sta facendo particolarmente parlare di lui in questi ultimi giorni visto la sua possibile riapparizione in The Mandalorian, la nuova serie di Disney Plus uscita lo scorso anno e che dal 30 ottobre vede uscita sulla piattaforma anche la sua seconda stagione. Se non sapete di cosa parla The Mandalorian, penso che per fare un piccolo riassunto vi basta vedere questo. È il cosino più adorabile che voi abbiate mai visto? Ma la domanda è... Rullo di tamburi? Chi è Boba Fett? Boba Fett è lo spietato cacciatore di taglie dell'universo di Star Wars. Una vera e propria icona, che ha saputo ritagliarsi il proprio spazio nelle trilogie prequel e originali e che può contare una serie di action figure da collezione, nonché di fumetti personali. A noi non importa però sapere in linea generale chi è Boba Fett. Infatti andremo ad addentrarci nel personaggio attraverso 5 punti principali. Le prime apparizioni, le origini, la storia di vendetta, l'armatura e infine The Mandalorian. Partiamo quindi subito dalle prime apparizioni. La prima apparizione di Boba Fett in linea temporale risale al 1980, nell'episodio 5 di Star Wars l'impero colpisce ancora. Il tutto non volendo contare lo speciale di Natale di Star Wars del 1978, da è più volutamente dimenticato e in cui Boba Fett comparirebbe in forma animata. Se il personaggio ha avuto, come già specificato, davvero poco tempo per farsi apprezzare, è stato per il fatto che nell'episodio 6 della trilogia originale, ossia nel film Il ritorno dello Jedi, vediamo la dipartita del cacciatore di taglie. Se infatti Boba Fett era colui che aveva immerso e impresso Ian solo nella carbonite, consegnandolo a Jabba the Hutt con cui il pilota spaziale avevano pochi debiti, è nel tentativo di salvataggio dell'amico compiuto da Luke Skywalker che Boba Fett rimarrà coinvolto, finendo divorato da Sarlacc sul pianeta Tatooine. Non si può dire certo una fine felice, ma ne parleremo tra un po'. Anche se queste sono le prime apparizioni del personaggio di Boba Fett non corrispondono alla descrizione delle sue origini, che andiamo infatti a trattare nel nostro secondo punto. Le origini di Boba Fett vengono collocate nella trilogia prequel di Star Wars. Padre di Boba Fett è tale Django Fett, apparso per la prima volta nel film L'attacco dei cloni del 2002. Cacciatore di taglie lui stesso si ritiene coinvolto nel possibile attentato alla vita di Padman Amidala, senatore interpretato nella trilogia prequel da Natalie Portman. Dopo l'evento, Django tornerà sul pianeta Camino e verrà scelto per servire da modello genetico per la creazione di un esercito di cloni al servizio della Repubblica Galattica. C'è un clone che, tuttavia, rimarrà inalterato su richiesta di Django. Quest'ultimo è proprio Boba Fett, che sarà cresciuto ed educato dall'uomo come fosse suo figlio. È proprio questo legame tra padre e figlio che porterà Boba Fett a cercare vendetta, come possiamo vedere nel punto 3. È la vendetta che traccia l'intero cammino del personaggio Boba Fett. Cresciuto già col disprezzo verso l'ordine Jedi, derivatoli dagli insegnamenti del padre, quest'ultimo si trasformerà in vero odio al momento della morte del genitore, causata per mano di Mace Windu. Dovendo fuggire dal loro pianeta Camino, padre e figlio si ritroveranno a dover scappare da Obi-Wan Kenobi, pronto ad arrestare e interrogare Django Fett, finendo così per rifugiarsi su Genosis, pensando di aver finalmente depistato Obi-Wan e potendosi nascondere insieme al Conte Doku e al suo esercito separatista. Una pace che durerà poco, visto l'arrivo dei Jedi su Genosis, cominciando uno scontro il cui maestro Jedi Mace Windu ucciderà Django Fett, staccandogli la testa dal resto del corpo. Sarà questo fatto a venire riproposto nella storia di Boba Fett, sviluppandolo nella timeline della serie adimata The Clone Wars, uscita per la prima volta nel 2008 e arrivata la sua settima e ultima stagione. Saranno ben due i tentativi di vendetta di Boba Fett, entrambi non andati a buon fine e che faranno capire al personaggio che non sempre la vendetta è la soluzione migliore, pur rifiutandosi però di perdonare il maestro Jedi. Come successo al punto precedente, anche la vendetta va legandosi direttamente al suo successore, ossia all'armatura di Boba Fett. Alle origini di Boba Fett si uniscono anche quelle del padre Django. L'armatura di Django apparterebbe infatti al popolo dei Mandaloriani, gli stessi di cui va trattando la serie originale Disney Palace, The Mandalorian. Solo un Mandaloriano può indossare quel tipo di armatura, come specifica bene il protagonista della serie. Che Django sia dunque un Mandaloriano? In The Clone Wars, Django viene descritto dal primo ministro Mandaloriano soltanto come un comune cacciatore di taglie che è stato in grado di impossessarsi della loro armatura. Qui però le opinioni si dividono. Quando nel 2008 è uscito The Clone Wars, Django Fett era effettivamente un Mandaloriano e gli ufficiali del pianeta volevano nasconderlo. Quando la Disney ha annunciato che l'universo espanso di Star Wars non era canon, Django ha perso l'identità fino ad allora posseduta, pur rimanendo in The Clone Wars, la cui appartenenza ai Mandaloriani però è rimasta dubbia. Tornando però all'armatura, quest'ultima è senz'altro di fattura Mandaloriana e passerà in eredità da padre a figlio. Se però l'armatura di Django Fett era argento e blu, quella di Boba Fett è verde e oro e, sebbene fosse stata indossata in battaglia, conta un razzo funzionante e lanciafiamme. Oltre all'armatura, Boba Fett è riuscita a riconquistare anche Slave One, navicella spaziale pilotata dal padre. Parlando dunque dell'armatura Mandaloriana, non possiamo che iniziare direttamente con il nostro punto 5. Disney aveva annunciato che, per la gioia dei fan, Boba Fett avrebbe avuto un suo film stand-alone, della cui scrittura e regia si sarebbe occupato James Mangold, già autore dell'eccellente Logan con Hugh Jackman. Infine però l'idea venne scartata e, al posto del film, venne annunciata la serie dei Mandalorian, il che fece domandare ai fan se questo slittamento avrebbe visto coinvolto il personaggio di Boba Fett nel progetto. Ricordate però che avevamo detto che nel punto 1 Boba Fett era stato divorato da un Sarlacc? Vi ricordavate? Le cose, infatti, potrebbero non essere andate esattamente così. Non considerando canon alcune delle narrazioni estese di Star Wars, l'idea di riportare in vita o comunque far ricomparire Boba Fett in The Mandalorian dovrà essere del tutto originale, non rifacendosi ad esempio ad altri prodotti mediali in cui la dipartita del personaggio non è mai avvenuta, come nel libro antologico del 1996 Tales from Jabba's Palace, in cui Boba Fett è riuscita a salvarsi. Ma cosa rende ancora più attinente la possibile apparizione di Boba Fett in The Mandalorian? Non solo che nella prima puntata della seconda stagione, intitolata The Marshall, viene ritrovata dal protagonista un'armatura che sembra essere proprio quella di Boba Fett, ma alla fine dell'episodio appare anche Taumera Morrison, attore che, dall'impero colpisce ancora fino ai videogiochi degli ultimi anni, ha prestato la voce proprio al personaggio di Boba Fett. Quella di The Mandalorian è perciò la prima conferma canon di Star Wars del ritorno del personaggio, che potrebbe così avere un ruolo determinante nella seconda stagione del prodotto Disney+. Sembra proprio che Boba Fett continui a riempire di sorprese e colpi di scena l'universo di Star Wars. E che colpo di scena ha quello della seconda stagione di The Mandalorian? Ovviamente la strada è ancora lunga e non ci resta che vedere il prodotto Disney+. Che diciamocelo, è probabilmente uno dei migliori prodotti di Star Wars. Quindi cosa ci dite di questo viaggio nelle origini, nelle apparizioni e nelle curiosità del personaggio di Boba Fett? Vi ha fatto scoprire qualcosa in più? Eravate già preparati? Avete anche degli approfondimenti che volete farci? Benissimo, potrete scriverli qui sotto, nei nostri commenti. Fatemi anche sapere se seguirete The Mandalorian alla seconda stagione, che cosa pensate della serie di Disney+, io a quanto pare mi sono già espressa e fatemelo sapere sempre nei commenti e fatemi anche sapere magari alcune vostre teorie se pensate che quello è realmente Boba Fett se potrebbe essere, perché no, un clone di un clone, un clone di un clone di un clone di un clone e fatemelo sempre sapere nei nostri commenti. Noi ci vediamo per il prossimo video d'approfondimento e quindi non posso che salutarvi. Ciao! Vi saluto a lui. Sembra una pazza. Non notate una certa somiglianza? Ma la domanda è... No notate una certa somiglianza?